Quest'anno c'è stata un po' di difficoltà nella gestione del suo ufficio, che cosa è successo? Come mai questi ritardi che le imputano? Non è una questione di ritardi, è una questione di forze in campo. L'amministrazione in alcune occasioni è in affanno perché purtroppo ha un limitato numero di risorse a disposizione. Questo non significa non garantire i servizi perché noi ce la mettiamo tutta per farlo, però è inevitabile che il venir meno di un certo numero di risorse in qualsiasi ufficio, penso, non possa che avere dei riflessi in termini di tempistica. Ricordiamo che la provincia di Cosenza gestisce un'utenza che considerando docenti, considerando personale ata e considerando anche la popolazione studentesca supera le 100.000 unità. La scelta di chiudere al pubblico l'ufficio è quella contestata dalla Reputazione 5 Stelle di non mostrare le carte. Ha negato un accesso agli atti, c'è qualcosa da nascondere? Non c'è nulla da nascondere, mi creda. L'accesso agli atti è un diritto alla trasparenza che viene garantito all'utenza. Nel caso specifico di un parlamentare, l'attività parlamentare può, tra virgolette, accedere agli atti, accedere alla documentazione attraverso canali istituzionali privilegiati, che sono quelli della interrogazione parlamentare, che sono quelli della sottoposizione di una serie di quesiti all'onorevole ministro. Al nuovo dirigente regionale quante unità lavorative chiedeva? Guardi, in questo momento è in corso a livello nazionale una procedura concorsuale che prevede l'assunzione di più di 250 unità. Le posso dire che io attualmente posso contare soltanto su due unità direttive, quindi soltanto due funzionari. Tenga conto che nel 2014, cioè anno in cui io sono venuto a Cosenza, avevo a disposizione sette unità direttive. Lavorare oggi con due unità direttive è sommamente difficoltoso. Grazie a tutti.